Buongiorno a tutti, ringrazio la partecipazione di tutti i nostri partner europei che oggi hanno voluto essere presenti e a disporre anche le loro peculiarità e le loro esperienze territoriali e ringrazio anche voi rappresentanti del nostro sistema italiano e i relatori che mi hanno preceduto. Come ha detto giustamente il direttore, prima di tutto due parole sul progetto europeo che oggi andiamo a concludere. Prima abbiamo fatto una battuta con il dottor Pancaldi appena arrivato, ha detto bene il progetto europeo perché è stato specifico ed ha colto un punto, non è stato generico come magari altre volte capita, ma siamo andati a focalizzare sul trasferto europeo o sul distacco europeo. Noi come sistema bilaterale italiano delle casse di l'italiano, e io rappresento la CNCE che è la commissione di coordinamento di tutto il sistema delle nostre casse di lì che si articola in 110-111 realtà provinciali, noi siamo il coordinamento nazionale, noi assieme agli istituti della Germania, della Francia e dell'Austria già da molti anni abbiamo sottoscritto delle convenzioni con la SOCABAU, l'UCF e la BAUC per quanto riguarda la trasferta e lo spostamento dei nostri operai all'interno dei nostri territori, dei nostri stati. Convenzioni che hanno facilitato il lavoro delle imprese ed hanno garantito ai lavoratori di poter mantenere, di poter portare avanti e poi aver riconosciuto le prestazioni e le caratteristiche dei contratti applicati. Dopodiché, per lo specifico del progetto europeo ne parleranno più avanti i relatori e le conclusioni saranno fatte dal direttore. Il mio auspicio personale è quello che si prosegua, stiamo già vedendo la possibilità di fare un terzo progetto europeo che va avanti sul cammino intrapreso per poter portare avanti questo percorso. L'idea che è stata presentata prima è quella di avere una rete comune, però unica a livello europeo, dove tutte le imprese e tutti i soggetti che hanno intenzione o che hanno la necessità di attuare la trasferta o il distacco passino da quella rete e siano registrati in quella rete, in quel sistema, perché questo governi tutto il movimento della mano d'opera. Secondo me è un percorso da studiare e da portare avanti, perché reputo che questo possa garantire il salario minimo e le peculiarità dei contratti nei vari territori, solo con una regia comune, altrimenti lasciare solo la buona volontà dei territori la vedo abbastanza critica. Io adesso entrerei un po' sul sistema italiano e le criticità e le positività di quello che stiamo portando avanti nel nostro territorio. Come ho detto prima, io rappresento un sistema di cassedili che è governato a livello delle nostre province. Noi abbiamo in ogni provincia italiana una o più cassedili, le nostre rappresentanze datoriali e sindacali sono un po' più articolate rispetto al modello tedesco. Noi abbiamo un po' più di due rappresentanze imprenditoriali e sindacali, le tre maggiori rappresentanze sindacali nazionali. Mentre per quanto riguarda, vedevo il dato di rappresentanza delle imprese, rispecchiamo un po'. Anche noi, l'associazione che rappresenta, l'associazione nazionale di costruttori, che è la parte industriale e la parte artigiana, però rappresentiamo la maggioranza di imprese che vanno, voi avevate il 75%, forse noi anche l'85% viene rappresentata da imprese che hanno alle loro dipendenze dall'1 a 9 a 10 dipendenti. Questa è una caratteristica comune. Noi diciamo che è stata la forza del sistema italiano e penso anche tedesco, perché ha potuto anche portare avanti in periodo di crisi anche sviluppo notevole della forza di questo lavoro. Nello stesso tempo le criticità che queste dimensioni rappresentano le conosciamo e le ho sentite prima illustrare bene dai colleghi tedeschi e sono quelle che abbiamo anche noi nel nostro sistema. Noi, assieme alle casse edili, che sono comunque ancora ad oggi riconosciute come enti privati e pur avendo una connotazione, dopo vedremo come riusciamo a intervenire anche per i certificati di regolarità, noi in ogni territorio abbiamo anche le rappresentanze bilaterali che costituiscono le scuole edili, ma anche dei comitati i nostri famosi comitati paritetici territoriali che portano avanti delle verifiche nei cantieri affiancando e dando consulenze e impresa ai lavoratori, ma affiancando anche un sistema di vigilanza e di controllo nel nostro territorio. Il sistema italiano ha avuto un notevole vantaggio e una notevole crescita nel controllo della regolarità dei lavoratori in edilizia con l'applicazione del DURC nel 2006. È stato un'iniziativa e un sistema che veramente ha stravolto un attimino quanto veniva chiesto a livello di controllo. Noi pensiamo che, ma ho capito, è abbastanza comune nel nostro territorio esistono molti organi di controllo sia per le stesse funzioni ma anche per diversi ambiti. Abbiamo dal punto di vista sicurezza, abbiamo dal punto di vista ferie, dal punto di vista pensionistico e tutti questi istituti erano un po' slegati fra di loro. Non riuscivamo ad avere un coordinamento generale. Per quanto riguarda l'applicazione del DURC, soprattutto, io devo dire, e ho qua i miei colleghi italiani lo sanno benissimo, nel 2006 con l'istituzione del DURC avevamo ottenuto e abbiamo ottenuto dei vantaggi ed un'immersione del lavoro sommerso importante. Importante perché ha permesso di obbligare le imprese, ma anche chi dovesse partecipare a lavori pubblici e privati, ad avere il riconoscimento di un DURC, documento unico di regolarità contributiva, positivo. Documento unico cosa vuol dire? Che i tre enti principali demandati al controllo delle attività edili, vediamo l'INPS, il nostro istituto della previdenza sociale. L'INAIL, l'assicurazione sul lavoro e il sistema Cassedili dovevano insieme dare tutte quante l'esito positivo per avere questo documento che permetteva alle imprese di poter partecipare ai bandi pubblici, che permette di poter accedere al pagamento dei vari stati di avanzamento, perché per ogni stato di avanzamento, soprattutto nei lavori pubblici e ogni altro nei lavori privati viene chiesto questo documento e alla fine dei lavori pubblici ci deve essere la regolarità contributiva che viene riconosciuta da questo documento. Per esigenze organizzative questo documento è stato portato online, è stato creato nel 2015 il DURC online che ha permesso una velocizzazione dell'emissione del DURC, perché prima tutte queste fasi di controllo purtroppo richiedevano del tempo e delle mancanze a livello di velocità nel dare queste risposte, capite bene che non poter partecipare ai lavori pubblici, avere dei ritardi di pagamento era importante, si è risolto con l'applicazione del DURC online che viene ed è in questo caso è stato demandato alla nostra Commissione nazionale per quanto riguarda la CNCE e viene rilasciato a livello nazionale dalla CNCE insieme all'INPS nazionale e all'INAE nazionale. Devo dire che ha un po' depotenziato l'efficacia del DURC, del primo DURC come era nato, perché il primo DURC dava un controllo immediato, questo dà una risposta immediata ma dei tempi di verifica che danno 3-4 mesi di benefit all'INPS, dopodiché magari nei prossimi giorni avremo anche l'occasione con voi di approfondire meglio, però secondo me si può migliorare, è un punto di partenza come abbiamo sempre detto con il Ministero del Lavoro, dobbiamo lavorarci perché c'è la possibilità, una di queste possibilità la stiamo attuando come sistema italiano nel zone del cratere, dell'ultimo intervento del sisma che abbiamo nelle 5 regioni centrali d'Italia. In questa zona il DURC viene affiancato da un certificato non solo di regolarità contributiva ma di congruità contributiva e questo secondo me è il passo successivo in cui dovremo arrivare perché la congruità non va solo a dire che un'impresa o un soggetto è regolare ma va a dire che è congruo, cioè che quanto costa la mano d'opera, quanto paga di mano d'opera all'interno della sua impresa è congruo con il lavoro che va a fare. Si determinano delle percentuali che sono state condivise e emanate dalle circolari del Ministero e per avere la regolarità l'impresa deve dimostrare che la spesa di mano d'opera rientra in questi parametri. Questo secondo me è un passo avanti, un passo importante per cominciare a debellare un fenomeno che, devo dire la verità, più che il lavoro totalmente sommerso, che quello forse non dico che è sparito perché non è sparito ma comincia a essere in numeri abbastanza limitati, noi abbiamo quel grigio su cui dobbiamo focalizzarsi e dobbiamo focalizzarci su un altro problema che non so se è condiviso a livello europeo ma è quello dell'applicazione di contratti alternativi a quelli dell'edilizia, cioè in certi lavori le ditte che vengono chiamate ad eseguire i lavori non applicano il contratto dell'edilizia ma applicano contratti più vantaggiosi e questo porta ad una regolarità sì del lavoro ma ad una illusione alta di quanto dovrebbe essere pagato oltre al non riconoscimento di tutto quello che dovrebbe essere dato al lavoratore, pensiamo alle gratifiche natalizie, alle prestazioni sanitarie, a quanto maturato come pensione integrativa, cioè tutte queste cose vengono eluse per quanto riguarda il lavoratore creando una concorrenza sleale fra chi applica il contratto in maniera regolare e chi non lo applica. È una lotta che viene fatta fra le associazioni che rappresento e il sindacale che ci appoggia nei confronti dell'organo legislativo nazionale, capite bene che ci sono delle altre lobby che fronteggiano le nostre per portare avanti altre linee, però se vogliamo avere, noi parliamo prima di una regolarità a livello europeo e un movimento a livello europeo dobbiamo anche cominciare ad avere dei paletti fermi a livello nazionale, garantiamo che comunque chi venga a lavorare, anche pensate un'impresa straniera che dovesse venire a lavorare nel nostro territorio come vengono e dire devi applicare il contratto, devi essere scritto alle grazie di dirci, se no nel tuo territorio deve avere questo, quello dopo si trova ad avere concorrenza con un'impresa che non ha le caratteristiche di essere edile. Stiamo portando avanti questi progetti, si sta lavorando anche le proposte, ci sono già, perché anche da noi abbiamo un problema, a dire il vero da noi non è cambiato negli ultimi anni quello del lavoratore esperto, come voi dicevate prima da noi, non è mai esistito, cioè esisteva decenni fa, io ho sempre una bella, scusatemi la personalizzazione, ma io nel mio ufficio ho dietro una targa di quando mio nonno, per fare l'impresa editore, a dire doveva avere otto anni di esperienza, doveva fare due anni di corso di capomastro, allora si chiamava e dopo poteva aprire un'impresa edile, se no non poteva. Oggi basta andare alla prima camera di commercio del territorio e dire io faccio l'imprenditore edile e può fare l'imprenditore edile senza nessun limite di capacità di apportare ad un appalto, perché nei lavori pubblici abbiamo la regolamentazione data dall'ESOE all'iscrizione agli istituti certificatori che danno dei limiti in base alle varie caratteristiche che deve avere l'impresa, per i lavori privati non c'è nessuna richiesta, può farlo chiunque senza nessun bisogno, dopo di chi all'interno se applica il contratto edilizia avrà l'obbligo dei corsi, questo tutto quanto, ma però il mercato è libero e tutti possono fare. Dobbiamo arrivare, e noi abbiamo già come parti sociali inviato da anni un percorso per arrivare alla qualificazione d'impresa, cioè per avere un'impresa edile dobbiamo avere alcune caratteristiche minime, non si chiede niente di più, c'è una discussione anche lì, se parto da un minimo riteniamo che sia, non dico obbligatorio, ma quanto meno sensato, che quando uno inizia un percorso abbia dei limiti anche di intervento nei vari importi contrattuali, perché insomma se qualcuno inizia ed ha una o due persone a disposizione difficilmente penso possa affrontare appalti da milioni di euro. L'altra cosa che sta portando avanti una discussione che mi piace, prima il sistema tedesco se non ho capito male mi diceva che se viene trovata un'impresa che non è in regola con quanto dovuto viene sospesa dalla partecipazione nei lavori pubblici per tre anni. Da noi se il DURC non è regolare, perciò non può partecipare ai lavori pubblici, regolarizza il DURC, dopodiché partecipa ai lavori pubblici. Forse, non dico che il sistema tedesco per tre anni no, ma la nostra patente a punti che avevamo, ristrutturiamo, la patente a punti sarebbe un benefit che diamo a un'impresa, man mano che fanno delle piccole, viene scalata finché a un certo punto hai finito i bonus e devi comunque ricrearli sul stile della patente di guida. Ecco, un'altra cosa che tengo a precisare al sistema italiano è che noi abbiamo molti organi di controllo a livello pubblico. Molte istituti hanno la facoltà di intervenire nei cantieri edili e di fare controlli. Come ho detto prima, sia dal punto di vista dell'applicazione dei contratti, sia dal punto di vista dell'applicazione della regolarità, delle forme pensionistiche o assicurative, ma soprattutto in materia di sicurezza sul lavoro, penso, non so quanti possibilità di spettorati abbiamo, ma dai carabinieri alla polizia al ASL che fanno i controlli. Cioè, sono diversificate. Si è creato all'interno adesso un unico ente che si dovrebbe arrivare a un unico centro di coordinamento per il controllo della sicurezza e della regolità nel lavoro. penso che sia la strada giusta, dopodiché quando abbiamo fatto l'unico ente dobbiamo fare anche la stessa regia in modo da non avere che ognuno vada per la sua strada, anche perché applica in maniera diversa la normativa creando anche abbastanza disorientamento fra gli attori del soggetto. Ecco, io non voglio andare oltre anche perché i tempi sono quelli. Quello che auspico in questi incontri e a cui ho tenuto anche a partecipare, anche all'estero ho seguito quasi sempre i lavori, perché al di là dei progetti che andranno avanti sulla trasferta, ci sono dei sistemi applicati in alcuni territori che secondo me sarebbero da copiare, prendere delle virtù che ci sono in alcune zone, qualcosa in Francia, qualcosa in Germania, che secondo me farne parte comune e applicarla non sarebbe male. Io sono dell'idea che copiare qualcosa di bello è sempre auspicabile. Come ho detto, cerchiamo di proseguire in questo lavoro. Personalmente sono dell'idea che non dobbiamo trovare un sistema perfetto, ma un buon sistema e applicarlo. Io mi auguro che i progetti di Post Lab proseguano su questo ordine per quanto riguarda il distacco, per poter portare avanti una normativa comune e vi auguro buona continuazione per il lavoro. Ci rivediamo dopo, perché tanto saremo qua insieme anche per approfondire alcune tematiche. Grazie.